Io do il benvenuto ad Angelo Pagano Ciao, buonasera, buonasera Grazie Angelo, eccolo qua, con il nuovo singolo Oggi sono io, l'idea di realizzare un brano così bello ed impegnativo veramente particolare, troverete poi sia le clip video e il brano da ascoltare sulla pagina di terza pagina magazine e non solo Prego Cri, curiosità per Angelo No, io c'avevo una curiosità, però non so se sia vero Dimmi, dimmi, dimmi Su TikTok? Non ti ho sentito, scusami Leggevo qualcosa, o vedevo anche qualcosa su TikTok Questo nuovo, diciamo, questa piattaforma Sì? Dove la tua musica No, è una curiosità che si voleva togliere Eh sì Mi diceva, ma non è che Angelo sta anche su TikTok? Eh, fatemogli lo chiediamo Sì, sì, è vero Gira un po' su tutti i social Gira un po' su tutti i social Ah, ecco, perché siccome TikTok per i ragazzi è il top, diciamo Ormai Facebook è diventato demodè, quindi per, almeno mio figlio dice, per i vecchi Sì, esatto Instagram è una via di mezzo, ancora siamo nella gioventù, però per i giovani più giovani è TikTok Esatto, sì, ci sono anch'io Perfetto Allora, Angelo, entriamo nel clou, parlaci di questo singolo Allora, questo singolo praticamente è venuto fuori all'improvviso Nel senso, più che all'improvviso è una canzone che mi ha fatto riscoprire la musica Io ho iniziato a cantare con questa canzone e alla fine l'abbiamo fatto uscire come singolo Visto che è stata proprio, appunto, la canzone iniziale del mio percorso musicale E poi devo dire anche che Alex Britti è un grande della musica italiana e lo ascolto da sempre Ecco, diciamo che il tuo punto di riferimento artistico, tra virgolette, è Alex Sì, è stato lui, esattamente lui, proprio con questa canzone Io ho iniziato proprio con questa canzone La musica l'ho scoperta così, tramite lui Meraviglioso, fantastico L'8 luglio in tutti i migliori dei negozi online Oggi sono io, il nuovo singolo di Angelo Pagano È una cover comunque, una cover, quanti brani? Sì, 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 è una cover Di quanti brani? Non ti sento Sì, mi senti adesso? Sì Sì, ecco, è un singolo o ci sono altri brani? No, 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 in questo momento abbiamo fatto solo questo Adesso stiamo lavorando a un inedito Sì Gli autori già si sono messi all'opera Previsione dell'uscita? Quando? Sì, la data ancora non c'è Ti posso svelare solo il titolo che è Ti sto cercando Ti sto cercando, allora ti cercherò pure io prossimamente Cercatemi tutti, cercatemi tutti i social per l'appunto come diceva la tua collega Tu di dove sei, Angelo? Io sono della Sicilia Quello sì, Bergamo Alta, diciamo, dalle parti Sì, è stato uguale Bellissimo Fa caldo? Sì, sì, sì Sì, abbastanza Abbastanza Ma grazie a Dio abbiamo il mare Bene, allora io a questo punto Prima di salutare tutti Anzi saluto ora tutti Do appuntamento a lunedì prossimo ore 19 Sempre qui a terza pagina magazine Nellaradio.it ringrazio Maria, Cristina, Crive, amici Cri Ringrazio in cabina di regia Mr. Butt Ringrazio di cuore Angelo Pagano E ora ascoltiamo in chiusura Bocca al lupo Angelo Oggi sono io, il nuovo singolo di Angelo Pagano Ciao 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 Grazie a tutti.